La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Colgo l'occasione per annunciare in anteprima l'uscita il primo luglio della mia nuova inchiesta. Forse la più incredibile che io abbia mai fatto, la più inaspettata sicuramente. Da non tifoso di calcio mai avrei pensato di scrivere un libro che tira in ballo il calciatore Diego Armando Maradona. È un libro dove non si parla di calcio, ma è la prima inchiesta giornalistica al mondo per far luce sui possibili mandanti politici e sugli esecutori degli attacchi che hanno compromesso la carriera sportiva e la vita di Diego Armando Maradona. Un dossier dettagliato dei suoi rapporti strettissimi con il presidente cubano Fidel Castro e con il presidente venezuelano Ugo Chavez e con gli altri presidenti sudamericani non allineati alle politiche imposte dagli Stati Uniti. Si parlerà del ruolo da protagonista di Diego nell'alleanza bolivariana per le Americhe e i dettagli delle azioni promosse da Diego al fianco dei leader rivoluzionari che hanno fatto infuriare gli USA. Tutto quello che di Maradona non vi avrebbero voluto mai far sapere. Il Diego rivoluzionario, questo il titolo del libro, quello che quasi nessuno conosce, la sua storia non autorizzata, forse l'eredità più importante che lascia. Nel 1987 rifiuta un premio negli Stati Uniti, fanculo gli americani. Io il premio vado a prenderlo a Cuba. All'Havana Diego incontra Fidel Castro e giura fedeltà alla causa rivoluzionaria e antiimperialista. Ma sono gli anni della guerra fredda. In Italia è in corso l'operazione Gladio, in Sud America l'operazione Condor per punire chi si avvicina ai comunisti o a Cuba diventando nemico giurato degli Stati Uniti. Operazioni spietate con la regia della CIA e di Henry Kissinger, ex potente segretario di Stato americano. Maradona finisce nel mirino. Il suo nome comparirà nei file del Dipartimento di Stato rilasciati da Wikileaks. Nel 1994 i mondiali di calcio si giocano negli Stati Uniti, promossi proprio da Henry Kissinger nel comitato organizzativo. Quell'Henry Kissinger a cui Diego ha rifiutato un'offerta perché è ritenuto il più acerrimo nemico di Fidel. È il momento di fargliela pagare. Diego nelle interviste utilizza parole al vetriolo contro gli USA e contro la FIFA. Un cocktail micidiale, come quello che gli accuseranno di aver bevuto e che gli è costato la squalifica. Il comandante cubano Fidel Castro e quello venezuelano Ugo Chavez puntano su di lui come portavoce delle politiche antimperialiste, megafono del verbo della rivoluzione e del riscatto dei sud del mondo. Lanciano l'alleanza bolivariana per le Americhe, ALBA, in funzione antistatunitense. L'emblema è un pugno chiuso, come quello che Diego usò al mondiale contro l'Inghilterra, vendicando gli argentini uccisi in battaglia dai colonizzatori inglesi. Era nato il pugno de Dios, simbolo di riscatto di tutto il Sud America. Diego fu spesso il trade union dei presidenti socialisti di quei paesi. Con loro, nel 2005, diviene addirittura il macchinista del treno dell'Alba che porta migliaia di persone a Mar del Plata per affossare l'Alca, il trattato di libero scambio che Bush voleva imporre per colonizzare il Sud America. Diego è il protagonista di quella impresa. Acclamato dalla folla come un leader rivoluzionario, sale sul palco con Chavez indossando la maglietta Bush criminale di guerra. Gli USA escono per la prima volta sconfitti da un vertice. I nomi dei responsabili di quella disfatta finiscono probabilmente su una blacklist. Nel libro, il Diego rivoluzionario, viene acceso per la prima volta un riflettore su chi voleva fargliela pagare. Un racconto rischioso, ma da napoletano come Diego, che ha avuto la cittadinanza onoraria della mia città, e da antimperialista convinto, non ho voluto esimermi. Maradona scrive nella sua autobiografia «C'è gente in giro che ancora non riesce a dormire perché sanno che qualcuno gli ha ordinato fai questo a Maradona e loro lo hanno fatto. Vorrei poter radunare tutti gli elementi, tutte le prove e poi andare alla FIFA, magari a 60 anni, però voglio andarci, dare un calcio alla porta e rivelare la verità». Purtroppo, Diego non ha fatto in tempo e proprio a 60 anni ci ha lasciati. Ma io ho radunato tutti gli elementi di cui parlava e questa inchiesta sarà il suo calcio alla porta dei potenti. Già disponibile sul sito francescomodeo.it e sul sito matrixedizioni.it In spedizione da luglio un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea La verità dietro i giochi di potere Con Francesco Amodeo